Chi sono i poeti della voce? Faccio solo una carrellata velocissima soltanto praticamente per nome, perché poi di alcuni di questi invece ci occuperemo un pochettino più approfonditamente in sede di lettura. Quali sono i principali poeti vociani? Tutti poeti che nascono grossomodo negli anni Ottanta del 1800 e vivranno quindi gli ultimi anni dell'Ottocento e grossomodo nella prima metà del Novecento. Il primo con cui partirei è Clemente Rebora, che è un poeta milanese ed è il poeta più vociano di tutti, nel senso che è il poeta per cui valgono tutte le caratteristiche che abbiamo elencato nella introduzione generale. Possiamo dire che ha anche una peculiarità, una cosa che lo caratterizza, cioè quello di una forte tensione non solo morale ma anche religiosa, tant'è vero che prenderà ad un certo punto della sua vita anche i voti sacerdotali. Un altro poeta vociano è Camillo Sbarbaro, poeta ligure. Ecco, Camillo Sbarbaro dal punto di vista tematico è sicuramente un poeta della voce ma dal punto di vista invece espressivo non lo possiamo considerare tale, nel senso che non si serve di quell'espressionismo, di quella aggressività linguistica che invece caratterizza per lo più i poeti di questo gruppo. Dino Campana è forse il poeta più noto ma è anche quello che facciamo rientrare per semplicità, diciamo così, in questo gruppo ma è un poeta che effettivamente è difficilmente catalogabile, è difficilmente limitabile all'interno di un gruppo. È un poeta che è stato definito l'unico grande poeta maledetto italiano e ha una sua forza che effettivamente, insomma, per cui ecco, a cui sta un po' stretta, diciamo, la definizione di Vociano, anche se alcuni caratteri sono proprio quelli che abbiamo elencato prima. Certamente in lui troviamo un forte dirismo, una forte vocazione espressiva e anche un certo, una certa aggressività verbale, un certo espressionismo verbale. Un altro poeta della voce è Pietro Jaillet, di origine valdese. Poi abbiamo Giovanni Boine, un altro poeta ligure, e citerei anche Arturo Nofri, un poeta romano, che oltre... è un poeta, diciamo, che ha avuto diverse fasi nella sua vita, quindi ha avuto una giovinezza da poeta crepuscolare, poi è passato appunto a caratteristiche invece più tipiche della poesia, della poesia vociana.